Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come aprire la prima cassaforte in The Last of Us 2 che incontrate praticamente qua. Una volta che nei panni di Ellie raggiungete questo edificio, noterete questa cassaforte aprendo questa porta. La cassaforte è giustamente protetta da una combinazione. Un piccolo consiglio su come aprirla ve la dà il documento presente qui, che potete poi consultare in qualsiasi momento tramite il touchpad del DualShock. Il consiglio, suggerimento o quello che volete è che la combinazione è la data in cui il cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Ora, chi è questo cucciolone? Molto semplice, se uscite fuori e osservate questa parete c'è appunto la lista dei migliori impiegati del mese. Il cucciolone altro non è che il cane, quindi il cane è stato eletto a luglio, quindi 07, di che anno 2013. Quindi la combinazione vincente è 7-2013. Una volta che avrete messo questa combinazione, quindi 7 inserisci 2000, quindi 0-2-13, la cassaforte si aprirà e al suo interno potrete prendere quello che c'è. Ho sbagliato la data, scusate, è 0-7-20, non 0-2 scusate, 20-13, quindi luglio 2013. Questa è la combinazione vincente che vi permetterà di aprire la cassaforte e come potete vedere al suo interno troverete diverse cose che potrebbero tornarvi utili.